si dice che sia il campione a dare valore al titolo e che tu lo ami o che tu lo odi non si può di certo negare che rafael abbia dimostrato più e più volte cosa significa davvero portare alla vita il titolo italiano ma adesso tutto potrebbe cambiare perché uno sguardo inaspettato si è posato su di lui e su quella loro uno sguardo che proviene dall'alto alex io e te eravamo buoni amici tu mi hai insegnato i primi passi su questo ring eravamo davvero inseparabili ma poi ti ho superato e ti hai iniziato ad odiarmi ad allontanarmi sono stati molti scontri in passato tra me e te molte cose non sono andate proprio per il verso giusto tra le due sai no visioni diverse perché io sono più forte anche di lui sono più forte di te a tuesday night system the flash sarà il mio compleanno e ho scelto di farmi un regalo importante perché il giorno del proprio compleanno è fantastico avere un match per il titolo italiano della ssw wrestling Buon Giovanni è un pericolo per noi Adesso facciamo a modo mio Se non fosse per Buon Giovanni Tu saresti ancora in penoppo Hai sempre cercato di essere come me, Raffaele E lo sai, tutti noi lo saranno Sei tu che vuoi essere come me Tu hai iniziato a farti furbo Tu hai iniziato a vincere rubando Tu hai iniziato a portarti dietro uno scagnozzo Se Buon Giovanni, Liam Massey, Scanner Si presenteranno all'angolo di uno dei due lottatori coinvolti nel match Verranno sanzionati con un allontanamento dalla compagnia A tempo indeterminato Il titolo italiano ha bisogno di prestigio E io sono l'unico atleta Che può darmi Tu lo sai che contro di me Non puoi vincere Mettiamoci comodi Questa è una nuova era Grazie a tutti